bentornati 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 sul canale è arrivata è arrivata ragazzi è arrivata la la seconda stella voi chiaramente mi vedete molto molto pacato molto molto analitico perché mai campionato fu più corretto mai esito di un campionato italiano fu più meritato e la partita di stasera ha raccontato diverse cose ha raccontato del del cap del gap evidente tra la prima in classifica la seconda anche a livello di lucidità anche a livello di sportività soprattutto a livello di calcio soprattutto a livello di giocare a pallone il milano ci ha approvato ed ero pronto francamente a a tributare l'onore delle armi a un avversario perché come ho ricordato in questi ultimi giorni visto che ho ascoltato parole a me francamente non piacciono parole tipo nemico e figuratevi chiaramente e non mi riferisco alle alle esternazioni della della curva perché quello è un mondo io lo vedo come un mondo a parte una bolla che e infatti non va intaccare vedendo come si è poi comportata la squadra nera azzurra parlo proprio in generale no nemici nemico sentito tante parole che non mi sono piaciute avversario la parola corretta è avversario perché in una competizione non c'è essa stessa se non c'è un avversario non è una corsa con se stessi il calcio è una competizione con un avversario se non c'è l'avversario non ci sei nemmeno tu e io ero prontissimo a rendere merito al al milan che nonostante le enormi difficoltà secondo me anche tattiche create dal dal suo allenatore perché io l'avevo detto in in sede di preview in sede di vigilia mi auguro che gli spifferi da milanello siano reali con leao in attacco e non esterno eccetera eccetera perché secondo me sarebbe uno snaturarsi del milan e un consegnarsi all'inter le voragini a centrocampo mi hanno perfettamente dato ragione l'inter sarebbe potuta stare all'ottantesimo 45 a 0 senza rubare nulla forse 45 a 1 perché in un paio di occasioni il milan è stato anche piuttosto pericoloso ma il dominio di gioco personalità consapevolezza è stato totale da parte dell'inter poi la scintilla quando il milan ha provato a buttare il corso l'ostacolo con orgoglio con volontà era partito forte il milan anche a livello di cattiveria agonistica entrate sempre al limite una gestione devo dire devo essere sincero una gestione arbitrale pessima pessima che poi è sfociata in quel finale orribile nel quale il milan mi spiace dirlo ma ha fatto una figuraccia non solo in teo hernandez non solo in calabria ha fatto una figuraccia generale quella quella mischia poi componente fondamentale secondo me la gestione arbitrale per tutta la partita perché non puoi arrivare ad ammonire gabbi al quinto fallo al novantesimo non puoi non vedere il fallo su michele al limite dell'aria non puoi non ammonire non vedere quel fallo di tomori al limite dell'aria a fine primo tempo non puoi non ammonire ad lì che va a rialzare senza motivo barella che ha appena subito un fallo da giallo di teo hernandez graziato quindi e invece al primo fallo per altro corretto è da ammonizione barella è stato ammonito poi è stato ammonito lautaro perché tomori fa le pirouette e non è barella e quindi viene ammonito lautaro gestione veramente pessima c'era un oltre al fallo al limite dell'aria l'assistente qui sotto la tribuna adesso mi sfugge il nome perdonatemi ma grazie al milan grazie a tomori che perde una palla un po come l'aveva persa ciao al derby d'andata dando segnalando una punizione e non c'era perché tomori si appoggia tira la maglia si lascia cadere turam va via in tre contro uno era manco nel primo tempo in gestione veramente orribile orripilante della dell'assistente del e in generale soprattutto del dell'arbitro che poi è sfociata non dico che è tutta responsabile dell'arbitro ma perché c'è una componente poi è chiaro che lì e io avevo appena detto testimoni miei familiari ho detto oggi ter nantes piuttosto calmo nonostante e invece poi chiaramente smentito perché se uno nasce tu non ha un po' mori quadrato come si dice dalle parti ma è la serata dell'inter e il milan con questa figuraccia a livello di immagine che se l'era salvata fino a dieci minuti alla fine cinque minuti alla fine e ha palesemente ha evidentemente palesato il ruolo da sparring partner perché oggi il milan come negli ultimi sei derby è il sesto derby di fila che l'inter vince ha recitato il ruolo di sparring partner tra supercoppe coppa italia campionato champions league il milan è stato uno sparring partner e il milan è la seconda in classifica ora piombata a meno 17 e da stasera l'inter si può freggiare della seconda stella i meriti i meriti sono racchiusi tutti in questa partita meriti tattici meriti tecnici nonostante diversi errori soprattutto di lautare turam perché se l'inter non era 4 5 a 1 all'ottantesimo è perché turam e lautaro e mkhitaryan si mangiano il gol davanti la porta ma non è quella sera e tu hai visto proprio l'apporto che è stato dato dalla squadra da parte di tutti dal primo all'ultimo chi è uscito chi è entrato con una lucidità sorprendente è chiaro che il gap in classifica conferiva ai nerazzurri maggior propensione alla calma e anche proprio l'attitudine di squadra l'inter ha costruito una squadra che sa quello che vuole e sa come andarselo a prendere con dei limiti perché l'inter ha dei limiti denotati anche stasera perché non è una squadra perfetta e proprio lì l'inter son sicuro andrà ad agire già agito con due uomini che andranno a integrare questa rosa altri cresceranno come aslani sicuramente ulteriormente buchanan sicuramente sarà un fattore quest'altro anno molto più rispetto a quest'anno ma è una consapevolezza per molti è una consapevolezza che raggiunge chi ottiene questo scudetto da protagonista sono tante le prime volte io però al primo posto ragazzi metto simone in zaghi ce lo metto perché l'ho visto parecchio commosso ed è corretto che sia così perché è una storia commovente per come è arrivata al di là del punteggio largo è un coronamento di un lavoro fatto in questi tre anni immenso questa è la verità mi spiace per chi non riconosce per chi non lo riconosce per chi non lo sa riconoscere è un lavoro immenso quello fatto da in zaghi soprattutto l'anno scorso nel periodo di maggior difficoltà nel maggior periodo di crisi non è vero che è andato avanti per le sue idee non è vero in zaghi è migliorato con le sue idee più che con le sue idee con i suoi principi ma è migliorato è migliorato su tantissimi aspetti innanzitutto sulla gestione degli uomini e delle partite ma soprattutto secondo me sulla gestione di se stesso è maturato e lo si era già visto l'anno scorso nel percorso in champions concomitante una rincorsa al posto champions tutt'altro che scontato l'abbiamo visto con la roma lo stiamo vedendo con la roma che oggi per esempio è caduta malamente in casa col bologna e l'inter ha fatto due mesi a tutta tra champions e il dover ottenere una qualificazione in champions per quest'anno vitale per le casse del club e quindi anche per questo super in zaghi poi squadra dirigenza e e la proprietà mi spiace per qualcuno ma carcere debiti lui o non è lui è certo che lui e la proprietà è quella che sceglie gli uomini e in quattro anni l'inter vince due scudetti da le scorze sempre come si dice alle parti mie a tutte le rivali in europa l'inter è l'italiana più accreditata esce con l'atletico perché si può uscire con l'atletico al cirue come il sito è potuto uscire con il real marito e calciori come il siti sempre di guardiola super milionario aveva perso una finale col celsi che arrivava da utsale c'è ci sta l'atletico marito nell'ultima arrivata è chiaro che che dà fastidio perché te la potevi giocare e andata così ma l'inter ha fatto la storia l'inter di simone zaghi ha fatto la storia e chiude un cerchio come ho detto in questi giorni lungo 22 anni da quel gol di testa con il quale simone zaghi decretò le lacrime di ronaldo all'olimpico il 5 maggio 2002 e la nascita della narrazione dell'inter che non vince mai l'anno successivo l'inter esce in quel derby europeo di champions in semifinale in maniera inopinata con due pareggi e quindi accresce questa leggenda no dell'inter che non vince mai bene dopo 22 anni in zaghi porta a casa trofei una finale di champions manda a casa in quella stessa champions il milan sempre in una semifinale che vale tantissimo vale tantissimo per chi come me come noi l'ha vissuta e l'anno successivo cioè adesso vince pure lo scudetto 22 anni dopo bravi bravi tutti e mi dispiace per gli altri un saluto